Grazie a tutti. Ma non si parla del festeggiato qua, non si parla poi in realtà di quello che è queste tre giornate, il venerdì santo, il sabato santo, la domenica di Pasqua, poi arriva il lunedì dell'angelo, un po' trascurata questa storia se andiamo a vedere. Si parla solo della grande spesa da fare per festeggiare e per mangiare insieme, però si dimentica perché accade tutto questo, Don Leonardo? Cosa dobbiamo ricordare? Manca il festeggiato in pratica? Certo, questa è una bella domanda perché un tempo sta accadendo anche per il Natale, per la verità, purtroppo. Perché un tempo il Natale era un pochino più sentita, adesso si sta spostando anche, questo certamente in parte dipende dalla progressiva e continua secolarizzazione della società. La società ha perso i legami non soltanto di fede ma anche culturali con ciò che rappresenta la fede. Pasqua è stata sempre un pochino meno frequentata del Natale, c'è il noto proverbio popolare, Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Ed è un peccato enorme perché ciò che avviene a Natale è proprio finalizzato alla Pasqua, cioè se non ci fosse stato ciò che è successo durante il triduo pasquale, ci sarebbe stato non troppo da festeggiare con tutto il rispetto per quanto riguarda l'incarnazione e la nascita del Figlio di Dio. Ci sono delle liturgie meravigliose durante il triduo, il giovedì santo, il venerdì santo, la veglia pasquale. Abbiamo visto la settimana scorsa entrare nelle chiese e vedere tutto coperto, tutto avvolto da questi drappi viola di lutto. I bambini magari si spaventano anche e dicono, mamma perché non si vede Gesù? Non tutte le chiese però, perché altre non osservano. Perché adesso il tempo era obbligatorio e adesso è diventato fondamentalmente facoltativo, quindi è un segno non obbligatorio. Cosa significa la copertura dell'estate? Significa due cose. Da un lato il lutto della Chiesa, che quindi si priva della gioia di contemplare il crocifisso e coloro che lo hanno servito, che sono i Santi, ricordando i misteri della sua morte. Ma anche una sorta, come dire, i padri l'avrebbero chiamata passio caritatis, quindi la passione dell'amore. La Chiesa vuole come mettersi nei panni di chi non conosce Dio e il suo amore. E quindi di coloro per i quali crocifissi e statue sono sempre verati, perché non vedono Dio da nessuna parte. Non lo hanno conosciuto, non l'hanno incontrato. E quindi nella sensazione di desolazione, di tristezza che dà vedere quello spettacolo, che è doloroso perché uno non vede la carina Pasqua, quando lo fa io lo faccio, quindi dopo un po' pesa. Ecco, però soffre la Chiesa questo dramma di molti che lo vivono senza sapere di viverlo, perché molte persone vivono lontano da Dio pensando di poter stare bene. Poi, come sappiamo, ci sono tutta una serie di malattie tipiche del mondo contemporaneo, la prima della classe, la depressione, di cui molti soffrono e che quasi nessuno sa perché, da cosa dipende, come si cura, eccetera. Farmaci su farmaci, sono aumentati, lo dicono gli amici farmacisti, che il consumo di psicofarmaci è aumentato a dismisura. Si dà la colpa un po' alla pandemia, in realtà non è la pandemia. No, perché io conosco un sacco di gente che ha vissuto la pandemia con la massima serenità del cuore. Non soffrono, perché quando uno sta adagiato tra le braccia del Signore e in Lui confida, non teme neanche cose di questo genere, no? Non so se approfondire questo tema. Sì, possiamo, abbiamo tempo, abbiamo ancora un quarto d'ora. Quando una persona ha un pochino di fede, anche per capire che cos'è un po' di fede viva, no? Allora, scenario pandemico. Facciamo gli esempi facili. Cosa può succedere? Allora, o uno muore, muore, o uno si ammala di brutto, ricoverato, il casco, parlavano, o uno si ammala leggero, o uno non si ammala. Vabbè, facciamo i primi, allora, la prima meglio, uno non si ammala. Si ammala leggero, me faccio due o tre giorni, me riposo un po', d'accordo? Quindi me faccio l'influenza. Oh, e le problematiche sono le ultime due. Allora, i figli di Dio non hanno paura della morte. È Pasqua, perché per i figli di Dio la morte non è la fine della vita, ma è l'inizio della vita vera. Non si va verso il nulla o verso l'ignoto, cioè non si va verso l'oblio o verso la disperazione o verso la fine. I primi cristiani chiamavano il giorno della morte, il Dies Natalis. Cioè, quando noi diciamo che Padre Pio si festeggia il 23 settembre, non è la data di nascita il 23 settembre. Padre Pio è nato il 25 maggio. Padre Pio è morto il 23 settembre. E non è che noi siamo un po' lugubri che ce ne abbiamo la data della morte perché siamo un po' sinistri. No, perché la data della morte è la data della nascita. Finalmente il giorno in cui ogni figlio di Dio ha il timer. Cioè, ogni giorno in meno manca un giorno in meno a vedere colui che ha tanto desiderato e amato per tutta la vita. Il casco, che facciamo col casco? Col casco lo stesso ci aiutano però i giorni che abbiamo appena vissuto. Perché noi seguiamo Cristo crocifisso. Per un figlio di Dio la sofferenza non è anche qui, che forse in certi casi spaventa più della morte. Perché morire spaventa, sì. Poi non ci penso più. Ma la sofferenza è un altro discorso, no? Noi però dalla vicenda di nostro Signore Gesù Cristo, dalla passione della morte del Signore, comprendiamo che la sofferenza, che Dio non avrebbe, non vuole più di una sofferenza per se stessa. Non ci sarebbe stata la sofferenza, insegnerà a Chiesa, se non ci fosse stato il peccato. Ma il Signore stesso ha trasformato il significato della sofferenza. Cioè la sofferenza accolta come spiazione del peccato. Perché Gesù è morto in croce per spiare i nostri peccati. E offerta con amore non è la fine del mondo, ma è redenzione, quindi è vita, sia per chi l'accetta con amore, sia soprattutto per coloro per i quali viene offerta. Sapete che la Madonna Fatima, visse queste testuali parole, la Madonna Fatima, non le dico io, pregate e offrite sacrifici, sacrifici intende anche qualche piccola sofferenza, per i peccatori, diceva così, perché tanta gente va all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifichi per loro. Allora, un figlio di Dio dice, devo andare a mettermi il casco? Per carità, non è che me lo sogno la notte, non è proprio il top. Ma se dovesse capitare, mi unisco alle sofferenze di Cristo crocifisso, gli offro queste sofferenze per la conversione di chi non conosce l'amore di Dio, di quelli per i quali le statue sono sempre verate, per il bene della Chiesa, per le anime che stanno soffrendo in purgatorio, e poi finirà, perché tanto quella sofferenza o guarisco e quindi torno alla vita di prima, oppure vado a vedere colui che ho tanto desiderato e il problema è finito. Quindi Don Leonardo sta dicendo in qualche modo che qualunque cosa accada, se si ha la fede non si può avere paura. Se si ha la fede con la F maiuscola. Io da una vita, anche perché io sono proprio diventato sacerdote, che mi conosce, lo sa, ed è un pochino adulto, un po' per vocazione proprio per questo motivo, non pensavo di fare questo nella vita, ci sono diventato, lo voglio dire in televisione, così se lo vede la mamma del diretto interessato, perché il mio miglior amico, nel lontano 1993, soffrì e morì da santo. Non so se Silvia conosce il cos'è, un linfoma non-oxyns leucemico a cellule T. Questo mio amico si fece un anno di via crucis, soffrendo le pene dell'inferno, ma io gli senti uscire dalla sua bocca parole di una ispirazione fuori del comune. Lo sa cosa mi disse una volta, lo voglio dire a tutti gli ascoltatori. Mi disse, sai, io prima che mi capitasse questa cosa, non sapevo nemmeno che fosse la sofferenza. Adesso lo so, quando vedo quel lago 19, perché dopo le terapie gli facevano un bel puntale al midollo, con lago grosso così, quando vedo quel lago mi sento male solo a vederlo. E poi lo so io quante stelle conto. Però lo sai che ti dico, se sta cosa doveva capitare proprio a qualcuno, ascoltate bene, è meglio che è capitata a me, perché almeno si era risparmiato qualche altro nostro amico. Io penso che arriverò a cent'anni, io rimasi fulminato. Questo mio amico si chiama Francesco Baglio, era un bravissimo ragazzo. Io non pensavo che stesse a questi livelli, perché questa frase che ha detto è una frase degna di un santo, perché qualunque essere umano al posto suo direbbe, sì io accetto tutto, ma sto guaglio proprio tra tanta gente della terra, proprio a me doveva capitare. E lui dice esattamente il contrario. Quindi le radici della... Io vidi in questo ragazzo che significa quello che abbiamo vissuto in questi giorni. Che significa che Gesù ha vinto la morte. Non avere paura più. Significa che Gesù è morto il giorno del suo compleanno, il giorno che avrebbe compiuto 23 anni. Il mio amico fraterno ha fatto il liceo insieme, sempre insieme. E lui, l'ultima cosa che disse alla mamma, c'ero io presente, lo sa che disse? Dice, ma io gliel'ho chiesto al Signore che mi guarisse. E per un certo periodo c'avevo pure creduto che mi guarisse, perché ci fu un tempo in cui sembrava che stesse meglio. Il male aveva assunto quella cosa che tecnicamente si chiama la remissione completa, ma i medici avevano già avvertito che non vi fate illusioni che potrebbe essere una cosa temporanea. Ma come vedi Gesù non mi ha guarito. Però, ma, io sono pronto. Dobbiamo fare la sua volontà, tu accettala e ricordate che c'è un altro figlio. Don Leonardo. Io dico, ah, se questo significa avere la fede, io lascio la fidanzata, lascio l'università, che poi mi hanno fatta finire, lascio la professione. Non mi importa, se qualcun altro può vivere questa cosa, come l'ha vissuta Francesco, io ci metto la vita per andarla a raccontare. Che bella testimonianza, Don Leonardo. L'ho potuto testimoniare, cioè, a molte persone io sono un po' antipatico, però molti dicono, una cosa, Don Leonardo, non ti si può negare, che si percepisce che nelle cose che tu dici ci credi. Sì. Poi possiamo non essere d'accordo, non provare i modi, però... Questo lo posso testimoniare anche io. Certo, questo è un messaggio bellissimo per l'amicizia, eh. Perché oggi le amicizie sono sempre più rare. E noi oggi abbiamo, tra l'altro, ospiti del pubblico dei ragazzi, abbiamo parlato tanto di amicizia, di amicizie che si formano anche nelle scuole di ballo, dove magari sono carenti un po' le famiglie, un po' carenti le scuole, che sono spesso anche dei luoghi dove si vive la sofferenza, perché non si conoscono le materie, non si riesce ad ottenere il massimo dei voti. Però poi ci sono altri luoghi di aggregazione, sani, dove possono nascere delle amicizie importanti. Ed è bello oggi anche ricordare questo amico. Quanti anni aveva? 23. E il giorno che era il suo compleanno? 3 maggio. Ecco. 1993. Io avevo allora 22 anni scarsi. Queste amicizie poi rimangono per sempre, eh, Don Leonardo? È certo. E segnano profondamente. Lei in questo caso ha deciso di donare agli altri la sua vita. Eh già. Perché poi essere sacerdoti è un po' donarsi. Eh già. Avere una parola sempre di conforto per tutti, però è un messaggio molto bello che ci riporta. Aiutare le persone, perché la gente non c'è. Qualunque persona si rendesse minimamente conto di che cosa sia la fede, profondamente, sarebbe quasi impossibile non credere. Quasi impossibile. Molte volte la fede si perde o non si conserva, non si coltiva. Perché non è forse. Cioè, la gente non sa cosa significa. Che cos'è la fede? Cosa ti può dare la fede? Chi è il Signore? Cosa ha fatto per te? Come questo può diventare realtà? Non è un mito, un film, un'idea astratta, o un vago sentimento afflato spirituale che quando mi sento c'è e quando poi non mi sento non c'è. Non è al supermercato andare a messa? No, no, nemmeno. A chiedere questo. Io dico sempre ai miei fedeli, la messa per esempio, guardate, come diceva Padre Pio, se uno capisse che cos'è la messa, Padre Pio diceva che ci vorrebbero i carabinieri a fare il servizio d'ordine tutti i giorni, perché non ci sarebbe nessuno che non ci va. e se uno ha capito cos'è la messa e poco a poco ci crede, non ci va, sono due le cose. O è matto, proprio matto da ricovero, o è un diavolo. Terzium non datur. Il problema è che siccome molta gente non ci va, perché la stragrande maggioranza, e questo lo so con certezza, non ha neanche la più lontana idea di che cosa succeda lì. Cose che i nostri sensi, purtroppo, sono velati come le statue. Non le vedono. La storia dell'amico che continua a vivere attraverso Don Leonardo ci riporta un po' alla storia di Gesù e a questi quattro giorni importanti, dal venerdì al lunedì. Abbiamo riportato un po' la storia di Gesù all'interno di una storia di tante persone che non ce la fanno. Questa è una storia vicina alla santità, perché questo ragazzo chiaramente utilizzava parole che non direbbe quasi nessun malato. Eh, certo. Perché, insomma, abbiamo vissuto, ognuno di noi ha vissuto poi vicino ad una persona che non ce l'ha fatta, che ha avuto un percorso simile. E sappiamo bene che la disperazione poi prende, e non c'è proprio tempo per pensare agli altri, se non agli ultimi averi da dividere, ai notai, eccetera. C'è la corsa più magari a pensare a ciò che resta di materiale, che ciò che resta di amore, di spiritualità. Però, il messaggio finale, qual è per questo lunedì dell'angelo? Questa resurrezione? Si chiama lunedì dell'angelo perché è bellissimo, no? Molti pensano che la pietra dal sepolcro l'abbia arrotolata Gesù, ma Gesù non ha arrotolato nessuna pietra dal sepolcro. Perché un corpo glorificato passa attraverso i muri senza arrotolare le pietre. Come ci dice uno degli evangelisti, se non ricordo male, è Matteo. Sono stati gli angeli che hanno arrotolato la pietra e poi sono messi seduti ad aspettare che arrivassero le pietonne e a dirgli guardate che la tomba è vuota. Eh. Quindi, la fede è una provocazione. Cioè, io quello che dico e quello che ho detto anche ai miei fedeli durante i giorni del Tridue nessuno di noi ignora che Gesù Cristo è esistito e che è vissuto. Più o meno tutti abbiamo avuto un'infarinata, prima comunione, cresima. Ma tu ti devi chiedere chi era Gesù? Punto interrogativo. Perché cercate quattro e tre morti? Allora, tu c'hai una tomba vuota. Che è successo con questa tomba vuota? gli ebrei dicevano che hanno messo in giro la storia. Che è successo? Lo dico io che è successo. Stava sempre a dire che era risorto e gli apostoli hanno rotolato la pietra, l'hanno portato via il cadavere e hanno detto ecco qua, è risorto. Ma ne è però niente. D'accordo? Che altro potrebbe essere successo? La tomba è vuota. È una provocazione dinanzi a cui perché è vuota? Credo che l'ho già detto anche un'altra volta che sono venuto qui a Lazio TV. Quando andremo dall'altra parte la prima cosa che il nostro Signore ci chiederà non è se siamo stati buoni o cattivi anche quello ma dinanzi all'intelligenza che Lui ci ha dato ci chiederà hai voluto farla funzionare oppure no? perché molti esseri umani l'intelligenza ce l'abbiamo tutti quanti però volontariamente scelgono di non farla funzionare in certi ambiti. Ora il nostro Signore a tutti quanti chiederà dico ma tu che sei nato in Italia sei ebbe non lo sai che tutti dicono che Cristo è risorto che c'è stata questa cosa qui ma ci hai mai pensato? Eh ma poi ci hai mai pensato perché c'è il venerdì santo il figlio di Dio che va a tribolare quello che ha tribolato la passione di Mel Gibson che molti hanno visto è che qualcuno è morto di infarto vedendola Giovanni Paolo II diceva è andata proprio così ma anche peggio eh sì anche peggio cioè eh sì ma capiamo chi è che ha sofferto e perché ha sofferto tutta la roba lì perché cioè queste domande perché quando partono queste domande poi l'annuncio dell'angelo le incrocia dice guarda che molto in strato verso la risposta corretta il problema è che io lo vedo anche da sacerdote no molte persone si convertono anche a quello che io dico perché perché già qualche domanda se la fanno quindi quando arriva quello che io dico gli offre una possibilità di rispondere ma se un cuore è chiuso e non se ne fa proprio le domande ma che gli dici come molta gente che andrà a fare Pasqua e Pasquetta proprio scegliendo di infischiarsene per carità il nostro Signore rispetta la nostra libertà quindi è una scelta ma fino a quando tu stai in una scelta di questo genere cioè me ne infischio non mi occupo del problema poi sono bellissime bellissime provocazioni e bellissimi punti di partenza per riflettere facciamo sempre che questo è anche il mistero lo sa chiudo poi qualcuno si chiede sempre ma la Chiesa insegna che gli angeli i diavoli sono angeli decaduti e che Lucifero era il più bello e il più intelligente degli angeli ma come ha fatto a impazzirsi e a mettersi a fare la guerra contro Dio lui che è così intelligente ma non lo capisce che è una guerra persa certo che lo capisce ma ha voluto scegliere di non capirlo cioè abbiamo capito attenzione alla sottigliezza perché se la volontà si corrompe l'intelligenza anche del più intelligente diventa cretineria mi si passi il termine un po' strampalato l'abbiamo capito il messaggio Don Leonardo grazie grazie infinite a voi Santa Pasqua a tutti ricordate che Pasqua dura fino a domenica prossima perché c'è l'ottava di Pasqua che è un unico alleluia di esultanza per la resurrezione del Signore grazie Don Leonardo Maria Pompei noi ci fermiamo linea alla regia un salto nella cucina di Vassili Chizivelli e poi torniamo per i saluti a tra poco grazie 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 grazie